In Domenia, ai 23 di novembre del 2014, dal Vangeli di San Matteo, In Louta, Gesù già dita si dice poi, C'è anche il fido l'homme venerà te sia gloria, e duci anni con el, e se sentarà giù sul tron de sia gloria. Ted'ant a el, venerà bene insieme a duci popoi. El li spartirà, desce che il pester spartes la feides e la ciaures. El metterà la feides a sia mandretta, e la ciaures a sia mancencia. In Louta, il Rege dirà a chi che sarà sia mandretta. Veni, voi che siete stati benediti dal pere mie. Già fa in ritasone al regno. Insegnà per voi etres dalla creazione del mondo. Perché che io bufam e mi hai dato da mangiare. Io bucei e mi hai dato da bere. Ere forest e mi hai dato accettare. Nutt e mi hai dato regolare. Malà e mi hai dato rincurare. Ere te persone e si deve nuvi a me trover. In Louta, il Gius ci risponderà. E il Rege risponderà. E in verità, Giovedie, tutto quello che hai fatto, Ence, a un demò, di chi mi è freddo più piccolo, l'hai fatto a me. Dopo oggi dirà Ence, a chi che sarà sia mancenza. Già venne da lonti da me, maladecce, del fe che tern, e insegnà per al diavolo e per sti anni. Perché che io bufam e non mi hai dato da mangiare. E io bucei e non mi hai dato da bere. Ere forest e non mi hai dato accettare. Nutt e non mi hai dato regolare. Ma là, e te persone, e non si deve nuvi a me trover. Ence, in Louta, il Gius ci risponderà. Segnor, campate a un e vedufa ma, o che tu padie la seite, o forest, o nut, o malà, o te persone, e non ti ha un servì. In Louta, il Gius ci risponderà. E in verità, Gius ci vedie. Tut quel che non hai fatto, niente a un demò di chi è più piccolo, non l'hai fatto a me. E il senzirà, chi è al padimento eterno, e il Gius ci invece ha la vita eterna. Parola del Signore Dio. Il Signore Dio. Il Signore Dio, con questa domenica, è l'ultima domenica dell'anno liturgico di Kistan, che è la stessa via con una gran festa, la solennità del Cristo Re dell'Universo. E allora siamo chiamati a vedere chi ne dice il Vangelo Dio anche, che ne porta proprio addirittura alla fine del mondo. Cosa saranno giudicati alla fine della nostra vita? Su quel che abbiamo fatto, è chiaro, ma che abbiamo fatto di bene con. E allora il Vangelo Dio anche, è la mia sorpresa da capire. Noi saranno giudicati sull'amore verso gli altri. E questo amore è un amore verso il prossimo, che ha bisogno. Il Signore Dio ha parlato di chi è pura, non ha proprio niente da mangiare, niente da bere, niente da essere regolato. O addirittura è preso o è male. E allora non siamo chiamati a dire, ma che vediamo questa gente? Non mi sa che la cessa mia proprio viene a domaner un tocco di pane perché c'è una fama o c'è una gran sede o non ci festi per vedere da bere. Manco che manco possiamo andare a trovare la gente che stesse in presenza con le regole che l'è. Nessuno va giocando adesso a trovare quella che l'è di presenza era via. Noi sappiamo sempre che anche le persone dell'Evangelio attualizzano. e pizzerà i purecchi che le al di danche. De sicuro fosse da regolare, non sa on, ma le gente che ha di besen pizzerà la carità. C'è da regolare anche da regolare a chi che non ha niente. Magari doi vediamo i strutti del vero perché che anche noi facciamo la carità vogliamo farla del vero. Beh, da maniera veicolta sì. Trovano gente che non c'è te vale di fai adesso e domani la carità perché dice che non è niente da maniera. E se ne so realmente le storie perché non conosciamo più che altri dire la cosa più importante. mingol di tempo per conoscere le storie. Non dire che è possibile il conduce. Ma magari veicolta se fermare e dire ma tu da là che ti vengi? Che ti fai? Perché ti eschi? E allora se no sdogli da zona e non cederemo un euro. Ma io ho scutato. Vi posso garantirvi che l'euro non è dato tanto perché si va ma perché veramente io ho voluto bene. E perché non c'è niente che non c'è forza che l'euro con una sana fare più di più. Se interesser ma perché? Adesso dicono anche le persone che mi hanno troppo così. C'è un mondo che fosse da maniera perduta. Lì che si spendono quel tempo fa il Papa che diceva appunto alla FAO si trova i soldi per fare gli armamenti e non si ha i soldi per dare la maniera. E allora che io non ho sconso impegnare come cristiani del mondo per cambiare le regole. Dare la maniera a chi ha fame non è la moglie dare un piatto di sopra le moglie di più. Le voler che questo mondo cambia perché le massa non è possibile non è possibile che sia piccola persona che ha tante e un milione di persone che non ha belle che mia. E' bello per vedere un dato che anche più sono che il 20% della popolazione ha più del 60% di tutta la ricchezza del mondo le cose che non va. Quindi cambia la struttura che dice la Gesia. E allora noi poterò dire alla fine del mondo ecco Signore Dio ti ha dato la maniera perché mi impegno. ti ha dato la maniera che è stato un po' retta che mi ha detto prima ma tutta la gente che è stato cambiare il mondo e allora alla fine del mondo poterò dire ecco Signore Dio te ringrazio perché tu te mi hai detto benedetto e poterò incidire e fare il suo per migliorare la roba. Buona domenica che sia una domenica che ne porta alla fine del mondo ma che ne porta a cambiare il mondo solo il tutto. Gloria, 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 Vibescesistio, Vibescesistio, Vibescesistio.